Ciao amici e amiche, Marco Dranz Games, e vi voglio presentare un video breve dopo l'aggiornamento di giovedì, giovedì era, possibile che era 26 maggio, credo giovedì 26 maggio, comunque l'aggiornamento che ha tolta la Tomahawk, quindi non si può più far male con la Tomahawk. Io prendo la McLaren Formula 1 GR, ok ragazzi, è una GR2, bellissima tra l'altro, ma potete usare anche altre macchine, è quella che vi piace di più. Quindi io vi faccio vedere la mia messa a punto, così vedete come faccio io. Allora, limitatore, zavorra, computer, turbo, alti regimi, LDS personalizzato, marmita da corsa, freni baffati, sospensioni, rapporto corse, vabbè, tutte e tre le gomme, e adattatore distorsato. Questo, vabbè, potrebbe anche non servire, ma io lo compro sempre. Quindi, ok, abbiamo, vi ho fatto vedere tutto quello che ho, io vediamo un secondo solo se per caso ho ridotto le impostazioni dell'auto, quindi gomme dure, 70, 80, oh 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 oh, sono uscito, sono uscito, scusate, gomme dure, 80, 40, guardate un po' le impostazioni, 10, 20, 300, 70, il regolatore di potenza e velocità, e il limitatore di potenza 84, 7,90, 5,80, le marce credo di averle lasciate invariate, ok, e qui non c'è nient'altro, ok, con questa impostazione, tra l'altro, andiamo a cambiare l'olio di questa mitica macchinetta, perché non voglio fondere il motore, amici miei, non voglio fondere il motore, assolutamente, anzi, andiamo anche a dargli una lavata, così prima di partire a farvi vedere questo video incredibile, abbiamo la macchina anche bella lavata, dai, 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 andiamo a lavarla, andiamo a lavarla insieme, dai, bravo, bravo, tipo, grazie, grazie, gentilissimo, o lava bene i vetri, lava bene i vetri che sennò poi non vi, ok, grazie, ok, perfetto, allora ragazzi, andiamo a fare, per questo farming di 725.000 che vi dicevo, andiamo a fare il circuito della Sardegna, Europa, Sardegna, l'ultima pista, la World Touring Car 800, 15 giri, ricompensa 485, ma se fate il giro pulito, riuscite ad arrivare a quello che vi ho detto, gomme dure, eh, gomme dure ragazzi, World Touring Car 800, circuito stradale a Sardegna, 15 giri, partiamo, iniziamo, prima cosa fondamentale ragazzi, economia, al massimo, e poi partiamo con la nostra BMW, andiamo a farvi vedere lì dentro, e vi faccio vedere il primo giro, solo il primo giro, e dopo l'ultimo giro, è risaluto di mare, tipo qua, mi è venuto addosso, non si fa, cosa, non si fa, cosa, non si viene addosso un altro grande, c'è, guardalo, 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 allora, qui potete farmare quanto volete, non ci sarà nessun taglio, nessun, non tireranno via niente, nessuna pezza correttiva, questo è un buon farming, io l'ho usato perchè la pista mi piace tanto, è lunga, è comunque anche, a parte è bella, è un po' tecnica, quindi si sta, in primi tiri si fa una bella baggara anche con loro, non bisogna andare da spesso, lo cercano senza gente, perché se si è nata a spazio qualche muro non c'è un problema, soprattutto l'ultima posa della pista, potete usarla già toccando col palco, con il volante, allora, questa macchina ha molta, molta più potente di loro, e quindi, in tanti secondi, anche di vallaggio, oh, mi ero buttato fuori, mi ero buttato tutti, sì, 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 io cercherò di superarli, oh, bravissimo, senza toccarli, senza toccarli, l'importante è di toccarli, se mi deve dare anche la guida pulita, eh, ragazzi, quindi adesso poi saltiamo direttamente al video finale, nel mio video, che potete tranquillamente farmare crediti, sull'altro, ok ragazzi, eccoci qua, ultimo, ultimo giro, chi c'ha segna, con la, e quindi, adesso vi farla vedere, ho visto come il video vi ho fatto vedere, dalla parte da dentro, ecco qua, allora per voler vincere facile un video che errore ho fatto 15 giuri senza errori all'ultimo che ve lo devo fare vedere ragazzi ho fatto una bella una bella uscita su erba tagliardo tagliardo va bene ragazzi allora e ragazze è chiaramente amici allora andiamo a resistarci a fare l'ultimo giro allora io faccio sardegna è una pista molto bella a me non mi annoia mai e serve per farmare chiaramente da fuori l'ho sbagliata allora ragazzi non fate come l'ultimo giro fate come il primo che vi ho fatto vedere perfetto andiamo a vedere quanti soldi prendiamo quanto tempo ci mettiamo più o meno faccio qualche giro veloce e qualche giro lento e via campioni abbiamo vinto raga incredibile 26 minuti 57 per la bellezza di marco drums games gratis hard design per le divise per le livree 727.500 ok ragazzi quindi con 27 minuti 725 anche senza la mitica tomahawk eccolo qua 727.500 punti bella livra un giro vi ringrazio e vi saluto al prossimo video guardate facebook twitter instagram facebook twitch e anche il mitico discord ragazzi ma io vi aspetto tutti i giorni dalle ore 21 poi e domenica io ore 15 18 e ore 21 quindi poi sabato possiamo andare avanti e domenica io ore 15 18 e ore 20 in live sempre con Marco Dranz sempre con tutti voi amici iscrivetevi al canale e tutte le domeniche con le gare della Formula 1 ci sarò anche io a fare l'aspetto dei titani alle due del polio e vi raccomando iscrivetevi anche al mio canale youtube se vi piacciono i miei video un sacco di video un sacco di video e tutte le live poi le porto su youtube quindi con questo vi lascio la parte più grande del video ciao 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 ciao